Il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, è incosciente in ospedale col sospetto di un avvelenamento da tossine. Ha fatto sapere la sua detta stampa, Kira Yarmish. Questa mattina Navalny stava tornando a Mosca da Tomsk. Durante il volo ha iniziato a sentire male. L'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Omsk un anno fa, quando Alexei era in carcere, venne avvelenato. E ora gli sta accadendo la stessa cosa, ha scritto la collaboratrice. Navalny, avvocato di professione e azionista di compagnie privatizzate come Gazprom e Rosneft, si è accreditato in Russia come un militante anticorruzione e la sua popolarità è andata rapidamente crescendo, tanto da venire definito dalla stampa statunitense l'uomo che Putin teme di più. Arrestato diverse volte, sulla sua testa pendono due sentenze di condanna a 5 anni e a 3 anni e mezzo, entrambi sospese. I processi che ha subito, tuttavia, sono considerati non equi dalla Corte europea per i diritti umani. Appena nei giorni scorsi, Navalny aveva commentato le proteste a Minsk contro Lukashenko, definendole un esempio contagioso che mette a rischio il Cremlino, dato che potrebbe scoppiare un'infezione democratica. Il politico, inoltre, aveva richiamato le proteste antigovernative in atto da mesi a Kabarovsk, vicino ai confini con la Cina, definendole la più importante novità politica degli ultimi tempi.